Fernanda, da dove tra niente poco tot ti ci spusiamo, lavorare, crescire di più, poco rispetto come tutti i doni, l'anti e i baxi, perché te? 59, te che sui tuoi voti, ti ha fatto il quadro, anche dal vuoto te gli infronti, adesso che la cartella è smorta, ti ha visto che è la Spagna, è ancora patimento. Questa è quella che dà il titolo al libro Ricordi, poi mi sono appassionato, ho preso la testa e ho scritto La nostra terra, la nostra terra, la nostra terra la si fa bene, qui non è sempre da mangiare un pezzo di penne, Da qui dà, ho andato grande, con la festa facendo gli alcuni amici, ho portato il mulan un quinto grande e d'agrivo un quinto di penne, ho piantevo il frigo, ho ricordato gli uomini, e gli avevo pagato un po' di regola, e sempre ovvio. Un scultino dal piede, andavamo soccato, in plorto era la verdura, neanche i broccati. Allì avevamo con i graffagnini, e essendo leghia la cintura, e quando scurghivano, un po' di torno. Alcuni che aveva pensato in terra, non riesce a fare, lei aveva un lavoro tutto di contadente. L'Europa si è affacciato dalla fabbrica, ci si è andato a fare un po' la classe, l'operaio contadente era tutto in classe. Questo è facile da stimere, non è bene. Adesso tu ne entri, è un bel casino. Ci avviciniamo al Natale, no? Allora io ho scritto la Nadella, facciamo conto che sia il cassamatore, Nadella non le presta, eh? Se hai un sorriso per tu, se sei l'anguramento a qui c'è bisogno. Se hai t'avvicinato a qui c'è bisogno, se hai perdonato il te l'affetto. Se hai t'apporto ancora, se hai tocato il pin d'amore. Se hai quando scurgo un'ancien, tu hai sentito perdonato. Se hai t'avvicinato a qui c'è bisogno di farlo. Ho l'anadella. Io amo le campagne, ma come me tanti, giriamo per le nostre strade, non vediamo più cosa c'è. Ho scritto quattro anni, coro. Lei è bella la nostra campagna. Troppo in arriva dei sui flui. Andiamo sopra a corso, siamo sempre prissi. Andiamo a più e troppo e fa un saluto. Questa invece è quella che dà il titolo al terzo libro, Riflessioni. Questo lo presento il 26 novembre alla biblioteca Malatestiana. Allora, Riflessioni dice così. Da un finestro della bicamera del letto, il silenzio della sera, un sentito molto estremo. Il chiamere la macchina molto estremo, il treno che passa, il feste e il vado. In sé, un sui di apparecchi. e scrivide esteri. E fa di sui. I sui perché le hanno usato il lampetto. E mi trovo a pensare che la vita è sempre vista merda, la vita è sempre vera. Solo perché l'uomo non vuole sempre più. Non è mai contento. Lì, secondo me. E pensi che ha potuto soltare tutto bene. solo se sdividere sul che passa del paese. Devo tenere il conto. perché... Ho... Ho dedicato una poesia al Papa Francesco e a Lampedusa. Vi leggo quello di Lampedusa prima. In questo suo paese è la guerra. E scappa via dalla terra. E cerca la terra. Lui non guarda la spesa. E me le chiedono. Lui si guarda un figlio. Andando ad incontrare la libertà e ancora levano con sincerità. E vanno a soffrire. Il cielo è lontano. La terra è lontano. La terra è lontano. La terra è la terra. Il sole è lontano. La terra è la terra. Ma la terra è la terra. Tutti sono la merda. Non avete un luogo. Tornate su. Io lontano le bambini su. Chi consistently è il fuori. Con la Grecia inizio ci stavano bene qui su di noi. Abbiamo ancora una cosa che non avevano una cosa. Non ritroviamo questa. Ma la Grecia è la terra e la terra è lontano. di oggi. Ma per vergogno, perché... è stata qua... è la mia moglie... Beh, beh, della mandata mi hai risposto, eh? C'è stato molto felice. Peva vergogno, inserio i miei nuvoli, le xerè, do tom e le stupro un parcazè. Daqu'è cammino e scappo fumo scuro. C'è il nuvoli, c'è fatto bene. All'improvviso fumo le bien, che ci si è, nel tutto quattro, in piaccia in piccurtile, in trattare spunti zermoi, o c'è veste la finestra? C'è vargo. È l'anno del lombre, la prascia è mer, è scuola con calma, è sì, le guadcher. La cammino da te fai, è stata la zerte. Non, c'è va a pe. Una parola buona non è aperto. che si è anziato, che si è anziato, quando c'è presente, le dite che apparegamo a parlare. Acredito-me, non, non è più. Le dite faccia l'erga, le dite un gran sorris, e le dite, e dite sempre, che si è anziato, a fare un conto che è un signore. Ho scritto una poesia, dedicata a un bambino, scusate le mie sono piuttosto pesanti, sono tristi, non sono pridanciani, però, insomma... Vi ciro che so via, poco tempo fa, due anni fa, in un incidente stradale, è morto un bambino di undici anni. In un incidente stradale, Pietro. E io gli ho scritto il sorriso di Pietro. Con mia somma sorprende, la mamma l'ha saputa, l'ha voluta, l'ha incisa in una stele, e l'ha messa sul posto dove aveva... avuto un gire in macchina. Andò in bicicletta un grosso da me, ride e scherzè, pinse i compiti, che ti fa? Ti studi, ti agite? Ti fa da tu me. All'improvviso un colpse, fulprarie, solo i cofano la macchina. Arriva l'elicottero, è defibrillatore, il cuore e il cuore vado in cuore, e respiro ieri. La corsa dell'ambulanza, un son che scende il cuore. La speranza lei è viva, alla scuola in cui ci va. Chissà, il maestro, rispondere alle domande del professore. E qui ho terminato con l'improvviso dell'angolo. Il giorno dopo è morto, l'ho cambiato in finale. E ho trovato troppo i tuori. I tuori li approviamo, non mi spegniamo da fare. Vole avrò il nostro signore, di cui non avanti, ho tirato in pirale di iso. Grazie.